E meno male che questo non era il tuo terreno, che non era il tuo tipo di pista preferita. Diciamo di sì, una midaglia tanto attesa nel cross, essendo che avevamo tanti problemi quando andavamo a fare campionati italiani cross. Infatti questa volta, diciamo che grazie al mio allenatore, gli allenamenti hanno dato dei risultati alla fine. Com'è andata la gara? Descrivi la in breve. Inizialmente la gara era molto tattica, anche se il terreno era molto duro. Quindi c'erano cambi di ritmi decisamente fortissimi e ti dovevi adeguare prima che scappavano gli avversari. A proposito di quelli che scappavano, colui che è andato in fuga poi ha avuto una crisi verso la fine della gara, l'ultimo giro. Tu invece a metà gara chiedevi quanto manca proprio per scegliere poi il momento in cui attaccare? Infatti grazie al mio allenatore che mi aveva avvisato che era l'ultimo giro e quindi tatticamente avevo già programmato quando iniziare la volata e dove. Quando hai iniziato e dove? Diciamo che alla curva e gli ultimi 500 metri. Questa medaglia ti fa guardare al cross con un altro occhio? Magari prima non era proprio il tuo tipo di percorso preferito, di gara preferita? So che non è il mio terreno adatto, però come mi insegna il mio allenatore dobbiamo andare forte in tutti i terreni. Senti, avevi questo appuntamento di marzo, adesso che cosa ti attende? Per adesso farò una settimana di recupero, poi si vedrà col tempo. Probabilmente il meno sorpreso di questo nuovo successo è proprio lei. Sì, sapevo di quello che avevamo fatto. Alla vigilia mi sono portato anche la bandiera da casa, quindi sapevo che era preparatissimo. Me ne sono portato la bandiera ma l'ho nascosta, l'ho tolto alla fine e mi ha fatto una grande sorpresa. La gara è stata preparata proprio così, cioè è filata così come se l'aspettava? Quest'anno sì, è stata l'unica volta che abbiamo preparato il cross perché volevo vedere dove potevamo arrivare. Gli altri anni ci sono stati dei problemi, l'anno scorso si è dovuto fermare per il problema dello stomaco. Due anni fa Gubbio è arrivato nono, la mattina era un po' febricitante, quindi non è che abbiamo stupito. Però in quello che dovrebbe fare lui il cross è formazione. Però ti ripeto, quest'anno il più volte gli raccomandavo di andare a correre un po' sugli sterrati, sulla sabbia, nei saliscendi. Nei cross deve essere efficientissimo a livello muscolare. Con il lavoro adesso probabilmente tutte le potenzialità di Ayub stanno emergendo, ma fin dove può spingersi, dove può arrivare? Ayub ha un potenziale enorme, l'unica cosa è che Ayub dovrebbe diventare italiano. Stiamo saltando parecchie maglie azzurre, non ha potuto disputare due anni fa le Olimpiadi giovanili che si sono svolti in Argentina perché non è italiani. Da nove anni in Italia parla il diretto crotonese e si sente crotonese. Lui ha detto a Ayub prima della gara e cosa gli ha detto dopo? Prima della gara gli ho detto, mi raccomando, non farei scherzi. Dopo la gara lui ha visto la bandiera che gli ho dato, si è stupito. Ma come hai fatto? Ce l'avevo già. Alla fine abbiamo avuto ragione e siamo campioni d'Italia ancora una volta. Ayub va a vincere il titolo? Alla fine abbiamo avuto ragione e siamo campioni d'Italia ancora una volta.